Assessore Pulcini, di recente è arrivato un decreto che il Comune di Albadriati che attendeva da tempo, sia la rettifica del fondo di solidarietà tradotto in soldoni, nelle casse del Comune arriva una sorta di tesoretto, o meglio, circa 2 milioni di euro. Si tratta di un risultato che attendevamo ormai da due anni, dopo un lavoro di squadra, oltre che tecnico, anche politico, che riporta nelle casse del Comune nell'immediato, già sul bilancio 2022, circa 2 milioni di euro, presa a tezzo 1.975.000 euro, e che è fondamentalmente un'azione di recupero che il Comune ha inoltrato nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, oltre che quello degli interni, affinché venisse ricomputato la quota che trattiene annualmente lo Stato sul nostro gettito IMU. Avevamo indicatori che ci dicevano che probabilmente si stava versando più del dovuto, attraverso una serie di calcoli, un incarico tecnico che è stato affidato, abbiamo effettivamente verificato che i nostri sentori erano corretti, e dopo la conferenza Stato-Cittadone e Locali, al nostro Comune viene riconosciuta una quota talmente alta, talmente importante, che metteremo a vantaggio della nostra collettività attraverso la nostra programmazione triennale, e che andrà a finanziare nell'immediatezza quello che è il nostro piano triennale delle opere pubbliche, soprattutto quelle opere direttamente cantierabili. Ma il dato non esaguisce qui perché questi 2 milioni fanno riferimento al periodo 2014-2019, c'è ancora un'azione di recupero che dobbiamo inoltrare per il periodo 2020-2022, e che darà dei valori anche qui importanti, che potranno essere investiti fin da subito sul nostro territorio, e lasceremo in prospettiva, oltre il 2023, circa 300 mila euro anno di economie alle amministrazioni future. Sotto questo punto di vista c'è la possibilità di perfezionare alcune opere pubbliche senza dover comunque aumentare la quota di indebitamento rappresentata dai mutui? Sì, infatti l'opera che è stata intentata nei confronti dello Stato si inserisce in un'operazione più generale di razionalizzazione della spesa, che era già iniziata attraverso la rinegoziazione dei mutui, attraverso la quale abbiamo abbassato drasticamente quello che è il livello di indebitamento dell'ente, ma questa operazione ci permetterà di finanziare le nostre nuove opere pubbliche senza contare nuovi mutui e quindi senza alzare ulteriormente quello che è appunto l'indebitamento già ridotto negli anni precedenti. Una riduzione che si aggiunge anche alla rinegoziazione dei mutui? Sì, come dicevamo in questo momento...